Ciao amici del canale e benvenuti in questo nuovo video, oggi vi voglio parlare della O'Lantern Classic Mini, la sorella minore della O'Lantern Music, sempre della O'Lite. Se vi interessa rimanete con me nel corso del video, andiamo a vedere. Ecco qua il suo scatolino, adesso andiamo a fare l'unboxing. Come vedete già c'è scritto sopra potenza massima di lumen 300 con durata di 60 ore, in modalità bassa ovviamente. Andiamo ad aprirla. All'interno troviamo questo scatolino che all'interno ci sono le istruzioni, ok? E abbiamo anche il cavettino con due maschi tipo C. Eccola, guardate che meraviglia, piccolina ma veramente ben fatta, fatta in metallo, ok? Bello resistente, vetro e plastica. Ora ve la faccio vedere da più vicino. Guardate che meraviglia, veramente un gioiellino. Qui abbiamo il dimmer per la regolazione della luminosità. In più abbiamo qui un moschettone che quindi possiamo aprire e agganciare direttamente sul nostro cordino o dove vogliamo in pratica. Ok, bello resistente, sempre in metallo. Sotto abbiamo anche l'attacco per il treppiede. Veramente carina, eh? Ragazzi, qui abbiamo l'estremino della Olight. E qui abbiamo l'ingresso per la ricarica, in questo punto. In più, ragazzi, se noi colleghiamo questo cavettino qui e lo agganciamo al telefono, ci fa anche da power bank, ok? Ha una batteria integrata di 4500 mAh e ha due tipi di luminosità, bianca e calda, ok? Ora ve la mostro. Ecco qua. Led bianchi e luce calda. Con questa manopolina, con questo dimmer, andiamo a regolare l'intensità della luminosità sia della luce calda che della luce fredda, ok? In modo molto preciso e devo dire che è tanta roba, ragazzi, eh? Parte da 5 lumen fino a 300 lumen e nella modalità minima dura 60 ore, come descritto. Come misure, altezza massima da qui a qui sono 18,5 cm per 12,5 cm di larghezza. Peso complessivo di 415 g e ha un grado di impermeabilità IPX5. Comunque, il dimmer sopra non regola solo la luminosità, ma è anche un interruttore di accensione e spegnimento. In più, ha un sistema di blocco in modo per impedire le accensioni involontarie. Per esempio, adesso dovrebbe essere accesa, ma vedete che non si illumina, ok? Per accenderlo a me basta fare due colpettini, quindi accendere e spegnere in rapida successione, così. Vedete? Fa una piccola vibrazione, un piccolo rumore che ci avverte che ora la lampada, se viene accesa, funziona. Vedete? E al contrario, se vogliamo bloccarla, ci basterà, quando è spenta, fare due volte 1 e 2. Sentiamo un'altra vibrazione che ci sta a indicare che la lampada è in modalità blocco. Quindi anche se noi, per sbaglio, la andiamo a ruotare, vedete, non si accende. E questa è una cosa che mi piace veramente tanto, perché a volte anche nel trasporto o nello zaino può accidentalmente urtare qualcosa e accendersi e si andrebbe a scaricare la batteria. Ma con questo sistema non abbiamo nessun problema. Veramente carino come sistema, sì. In più, in sovraimpressione vi metto tutte le varie durate con le varie luminosità, perché a seconda poi della potenza che noi prestabiliamo, ha una durata ovviamente differente. In più, insieme alla lampada, mi hanno mandato questo tripode, che secondo me è il tripode più resistente e indistruttibile che io abbia mai visto. Veramente è una cosa spaventosa. In alluminio, credo che sia. È veramente bello. Questo lo potete lanciare, ragazzi, che non si fa neanche un graffio. È regolabile, quindi noi possiamo anche regolare l'apertura dei piedini, in questo modo. Ok. E poter poi, ovviamente, agganciare la lampada con questa vite che ha. Ecco qua. E la possiamo mettere ovunque, su un tavolo, o appesa, come vogliamo. E possiamo regolare anche l'altezza dei piedini, in modo che non si vanno a aprire più del normale, del dovuto. Ok? Quindi possiamo regolare l'apertura dei piedini e così non si apre più. Vedete? È veramente carina. È un oggetto veramente bello, devo dire. Ora non ci rimane che fare qualche prova notturna per vedere come va, come funziona e che tipo di luce fa. Ok? Andiamo a vedere. Eccoci qua, amici. Accesa. E qui, quando l'accendiamo, c'è un piccolo LED. Ora ve lo faccio vedere. Eccolo qui. Un LED che si accende e ci indica lo stato della batteria. Può essere di colore verde, rosso o rosso lampeggiante. Ok? A secondo poi lo stato della carica della batteria. Questa, che vedete ora, è al minimo luce calda, 5 lumen e comunque ci permette di leggere tranquillamente. Quindi anche al minimo fa una bella luce. Poi possiamo aumentare con questo dimmer, sempre, e come potete vedere fa una bella luce. fino a, al massimo, che poi passa però a luce bianca. Ecco qua. Vedete? In questo modo passa a luce bianca. Anche qui possiamo aumentare. Ecco qui. Mamma mia! Non si può guardare. A baglia proprio. Ok? Ritorniamo, abbassiamo la luce bianca fino a tornare a luce calda. Ecco qua. Perfetto. Ora, così, è luce calda al massimo. E comunque, vedete che fa veramente una bella luce forte. Ora, mi allontano, così la potete vedere meglio. Eccola qui. Così è luce bianca. Ora, vi voglio far vedere che sollevata è anche meglio. Però, se sta così, illumina tanto, però può dare un po' fastidio agli occhi. Specie se è al massimo, come in questo caso. Ok? Però, illumina veramente bene, ragazzi. Se invece la teniamo bassa, per esempio con il treppiedi, si vede molto bene sul tavolo, però non ci dà fastidio agli occhi, proprio perché ha questa caratteristica di questi dischi, queste coperture, e impedisce che la luce ci va direttamente negli occhi. Però, illumina più a livello superficiale del tavolo. Se invece vogliamo una luce molto più ampia, molto più diffusa, converrebbe appenderla proprio, in questo modo, appesa. Non ci darebbe fastidio agli occhi, ma si illumina veramente tanto, ragazzi. Si vede veramente tantissimo, come potete vedere. E anche luce bianca, forse anche la luce bianca, illumina anche di più. Ora ve la mostro. Ecco qua. Ok? Penso che si nota, fa veramente una bella luce. Molto forte. E riesco a vedermi tranquillamente attorno, per un raggio di almeno una decina di metri, tranquillamente, senza problemi. Questa bianca fa anche più luce di quella calda. E si vede anche meglio. Però, ovviamente, l'atmosfera che fa quella calda. E' tutta un'altra cosa. Mi piace tantissimo la luce calda, perché crea un'atmosfera veramente bella. Diciamo, simula la lanterna d'olio. Vi assicuro, ragazzi, che alla sera, quando mangiamo e ascoltiamo un po' di musica, magari con un bel bicchiere di vino e con una luce del genere a fianco, si crea un'atmosfera veramente fantastica, ragazzi. E' favolosa in tutte le circostanze in cui dobbiamo dormire fuori con la tenda, o con la maca, o anche con il bivacco, per dire, ok? Solo con il tarp. Come vedete, è piccolina, ma è molto potente. Ora è al minimo a 5 lumen, però vedete come si vede bene. Bene, amici, siamo giunti alle conclusioni. Che dire, una lanterna è veramente fantastica, eh? Non si può dire nulla. Materiali veramente ottimi, costruita veramente bene, di un'eleganza spaventosa. Potrebbe benissimo andare come oggetto di design anche in casa. E sarebbe veramente bellissima anche in casa. In più, ci può fare da powerbank in caso di necessità. E' piccolina, la resta in un pugno, ok? Si può trasportare tranquillamente. Lo si può appendere o mettere dovunque, alla fine. E fa una luce stupenda. In specie la luce calda fa una luce fantastica. Non c'è niente da dire. E in più, come i prodotti dell'Aolite, anche questa ha due anni di garanzia. Io comunque, amici, vi lascio tutti i link d'acquisto in descrizione. Casomai vi interessa. Io ringrazio l'Aolite che mi ha dato l'opportunità di testare questo splendido prodotto. Veramente bello. E io vi ringrazio per la visione. Spero che il video vi sia piaciuto o che vi possa essere di aiuto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, amici! Ciao!